Dopo alcuni minuti l'acqua inizia a bollire e dentro si sente come frizzere, come bollire e esce ed esce il punto dalla lattina e il vapore. Ed il passaggio successivo sarà quello di prendere la lattina e mesgerla dentro la bacinella dell'acqua, velocemente. E' fredda. E' fredda. E' fredda. E' un applauso.